C'è un evento promosso dall'Associazione Castell'Arte per domani sera ad Atri ed è un evento particolare perché la musica interpretata, musica lirica interpretata in un'ottica diversa un'ottica orientale, un'ottica che è quella della Corea del Sud, perché? Allora, innanzitutto noi festeggiamo, continuiamo a festeggiare il nostro trentesimo anno di attività e organizziamo in questo Gran Galà della Lirica presso il Palazzo Acquaviva di Atri cioè il Palazzo del Comune per capirci, del Cortile e gli interpreti sono artisti sudcoreani e gli orientali, in particolare i coreani e i giapponesi sono molto appassionati di musica lirica, infatti i conservatori italiani sono pieni di questi studenti che hanno delle particolari qualità canore e quindi il bel canto italiano visto da una prospettiva diversa quella orientale, domani sera 25 luglio, mercoledì alle ore 21 ad Atri Quale sarà il repertorio? Il repertorio classico italiano, i grandi autori dell'opera, da Verdi a Mascagni quindi il meglio della produzione lirica italiana Ci sono anche i nomi? Sì, è un po' difficile pronunciare, proverò a definirli Li Kyung Hoon, Kim Jung Jung, Wang Jin Jung e il maestro Inseol Guk e la direzione del concerto è il maestro Massimiliano Caporale Appuntamento per domani al Palazzo Comunale ad Atri Sì, 25 luglio ad Atri Sì